Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi come state vedendo qui davanti a voi siamo sul secondo canale Voi direte Luke ma che stai facendo qui? Ragazzi per chi non lo sa io ho ripreso l'attività sul secondo canale Tanto è vero che sto caricando diversi video Ovviamente le più user ragazzi sono quelle che sono perché pochi sono coloro che seguono ancora il canale Perché sono 29 iscritti ma soltanto il primo video è andato una bomba perché lo pubblicizzai col primo Quindi mi raccomando ragazzi andate a vedere tutti questi videozzi che sto facendo per voi Sono dei video ragazzi in cui non parlo, sono video velocizzati, video molto carini, musica confortevole E più in piano cercherò di portare i veri e propri gameplay Intanto ragazzi vi chiedo supporto perché sto provando a riprendere YouTube Ho bisogno di qualche bella parola, ho bisogno di qualche conforto, ho bisogno di qualcuno che mi sia vicino sui video Perché ovviamente vicino a me ho la mia ragazza che mi aiuta e anche lei mi sta stimolando per riprendere Perché comunque è una cosa carina e siccome anche lei si è cimentata da poco su Minecraft Diciamo che questi video aiutano stesso lei, voglio sapere da voi ragazzi il parere sotto questi video Ho caricato un video di Erston, anche altrettanto carino, me lo dico da solo per un motivo solo ragazzi Dico che è carino perché comunque un minimo di editing ci vuole, non è solo un velocizzare o mettere musichetta Quindi ragazzi vi invito a lasciare un bel like sotto questo video Di andare sul secondo a guardare ogni video che vi siete persi Detto questo ragazzi ci bicchiamo alla prossima e ragazzi io sto tornando in attività Però voglio vedervi molto molto vicini Detto questo, bella a tutti ragazzi